Amico Tasinato Ferraris allora, com'è andata la gara? Sì dai, è andata abbastanza bene, ci siamo divertiti e soprattutto devo dire che nonostante tutto abbiamo fatto un bellissimo risultato che per noi già vincere all'over 55 ci permette di andare in finale e poi peccato per i 30 secondi di penalità che abbiamo preso questa mattina a Bielmonte per il taglio di una chicane però ci sta, quindi siamo alla fine 14esimi assoluti e va benissimo Senti però c'è sempre l'aspetto comunque legato alla vostra proposta umanitaria che va decisamente bene al di là dei 30 secondi questi sono minuti di bellezza Certo, poi comunque devo ringraziare l'ospedale perché comunque ho sempre l'opportunità di portare il loro logo e quindi di cercare di portare a termine questa raccolta fondi e poi devo dire che comunque siamo pienamente soddisfatti, veramente, veramente tanto Senti ti chiedo un'ultima cosa, l'ultima prova speciale, un saluto agli amici di Newsbiella che da sempre ti seguono L'ultima prova speciale l'abbiamo partita un attimino perché avevamo un po' il fiato sul collo abbiamo perso una posizione però ci sta perché quando sei un po' pressato però già arrivare in pedana qui a Biella alla fine è tanta roba è una gara di campionato italiano e prove durissime, belle e quindi siamo più che soddisfatti grazie soprattutto a Newsbiella e all'ospedale che comunque ci dà questa opportunità di portare avanti Continua questo viaggio alla ricerca della solidarietà, grazie a Tasinato naturalmente e buon prossimi rally Grazie, alla prossima